Siamo abituati a sentirci dire che se vogliamo fare delle belle foto dobbiamo investire delle belle cifre. Nel video di oggi andrò a raccontarvi come possiamo ottenere un netto miglioramento sulle nostre immagini ma senza investire un capitale, anzi facendo uso di un accessorio che spesso e volentieri abbiamo già in nostro possesso e non usiamo quasi mai. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia. Oggi sono qui a raccontarvi la mia esperienza con un accessorio bistrattato che spesso e volentieri non finisce nemmeno nello zaino fotografico ma rimane proprio a casa. Se argomenti di questo tipo vi interessano io vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale e lasciare anche un like a questo video perché voi non ve ne accorgete ma mi state dando una grossa mano a crescere. Entriamo subito nel vivo dell'argomento di oggi. Che cosa abbiamo qui? Paraluce. Qualcuno di voi li conoscerà già, qualcuno li userà già, qualcun altro li vedrà forse per la prima volta e non li avrà mai veramente usati. I paraluce sono dei coni forati e nella maggior parte dei casi sono già inclusi quando noi andiamo ad acquistare un'ottica. In particolare questo qui gigante che potete vedere è il paraluce del mio EF 24-70 mm, l'obiettivo zoom standard serie L di Canon, una delle lenti che utilizzo più spesso e ha un paraluce di dimensioni veramente inquietanti perché è super mega gigante. Questo probabilmente per far fronte a dei difetti di costruzione o comunque per andare a schermare bene un'ottica che ha un diametro di 77 mm quindi abbastanza imponente e che quindi molto facilmente va a beccare delle lame di luce che si traducono poi in delle luci parassita. Ora, che cos'è una luce parassita? Nella ripresa che state vedendo adesso secondo voi c'è una luce parassita? Voi riuscite a vederla? Fermate il video in questo momento e scrivetemi in un commento se secondo voi state vedendo una ripresa con una luce parassita. Molto bene amici, il quiz è terminato. Chi mi ha risposto che non c'è nessuna luce parassita in teoria ha sbagliato nel senso che qui vedete che c'è una lucetta che punta direttamente in camera. Quindi questa piccola lucetta ornamentale che sta sullo sfondo è un punto luce ben definito che punta direttamente in tutte le direzioni e quindi anche in camera. Una luce come questa potrebbe in teoria generare una luce parassita, però da quanto mi è dato vedere, quindi siccome ho strumenti di analisi più sofisticati di quelli che potete avere voi fruendo il video su YouTube, in questo momento questa luce non sta generando una luce parassita all'interno di questa ripresa, anche se potrebbe. E se ci dovessimo avvicinare a quella luce più andiamo vicino e più è probabile che venga generato un fenomeno di flare o comunque di luce parassita indesiderata. Ora, in questo caso specifico un paraluce non servirebbe perché la luce punta direttamente all'interno del nostro obiettivo, quindi siamo in un caso di controluce, questa luce sta esattamente dalla parte opposta della nostra ripresa. Diciamo che in questo caso la luce parassita in qualche modo è anche tollerabile. Il caso però di cui vi voglio parlare oggi è ben più drammatico di questo. Nel momento in cui abbiamo a che fare con dei punti luce più insidiosi di questo, questa è una lampada ornamentale quindi non illumina niente, come potete vedere la stanza è in penombra alle mie spalle, quindi questa non è una luce che ci impensierisce. Nel momento in cui abbiamo a che fare con una luce più potente come può essere la luce del sole o la luce di un flash che va a scattare nella stanza, ecco che abbiamo un evidente problema di luce parassita, ovvero una luce anche se non è in ripresa, potrebbe anche essere esterna, potrebbe essere qui sopra, però può comunque andare a picchiare contro il frontale del nostro obiettivo, soprattutto se abbiamo messo dei filtri come nel caso per esempio di un filtro UV o come nel mio caso io sto utilizzando un filtro ND. Ovviamente andare a mettere un filtro, quindi un vetro ulteriore davanti all'obiettivo può aumentare le possibilità che ci siano delle luci parassita. Anche nel caso di un filtro polarizzatore che normalmente dovrebbe andare a ridurle, in realtà potrebbe intercettare diversamente fasci di luce e redistribuirli in maniera del tutto imprevedibile. Ecco che degli accessori come questi ci possono salvare la vita perché nel momento in cui io schermo in questo modo il frontale del mio obiettivo solamente una luce diretta sarà in grado di generare una luce parassita, la luce proveniente da qualsiasi altro angolo andrà a scontrarsi con il paraluce e non andrà più quindi a creare dei riflessi indesiderati all'interno della mia ripresa. Attenzione, i riflessi sono indesiderati nel momento in cui vogliamo precisione e controllo. In realtà possono essere utilizzati a nostro vantaggio per generare delle immagini suggestive. Sto pensando per esempio alle foto di matrimonio in cui magari possiamo fare apposta a mettere il sole dietro agli sposi per generare le stelline in mezzo mentre si baciano o cose del genere. Quindi questo è un effetto che possiamo utilizzare a nostro vantaggio però è importante sapere anche come dominarlo. Come potete vedere questo è un paraluce un pochettino più piccolo. Questo è il paraluce di un 85 mm. Come potete vedere è meno imponente di quello della lente zoom. Non ho la pretesa di sapervi spiegare il motivo però possiamo vedere che esistono dei paraluci di dimensioni assolutamente diverse. Ora secondo me ha assolutamente senso andare a utilizzare un dispositivo di questo tipo tutte le volte che siamo fuori a scattare qualcosa. Perché nel momento in cui noi lo usiamo quantomeno sappiamo che abbiamo fatto tutto quello che ha il nostro potere per portarci a casa delle foto pulite e prive di qualsivoglia disturbo. Questo è un accessorio che come detto la maggior parte delle volte viene fornito all'acquisto della lente. Quando anche non fosse fornito insieme alla lente un paraluce anche dei più costosi arriva a costare credo massimo massimo intorno ai 70 euro ma proprio se ci vogliamo coccolare altrimenti lo si trova probabilmente di terze parti anche intorno ai 30 euro. È un dischetto di plastica del cavolo in effetti è scandaloso che costi 30 euro però è comunque un accessorio poco costoso che possiamo permetterci tutti quanti. Quindi il consiglio che vi do oggi è di valutare l'utilizzo prima di tutto perché secondo me ce l'avete già e se non l'utilizzo anche l'acquisto di un dispositivo come questo perché può salvare le vostre foto da luci parassita che altrimenti vanno non a rovinare le foto ma a introdurre una variabile che magari non è desiderata e quindi magari vi viene fuori un effetto bellissimo però se non era desiderato se siamo in balia del caso è comunque sempre un peccato perché non è molto professionale affidarsi al caso noi vogliamo essere padroni di quello che fotografiamo. In questo caso come potete vedere si tratta di una cosa anche leggera attenzione bene nel momento in cui noi lo montiamo sull'obiettivo è vero che allunga il nostro obiettivo quindi ce lo rende un pochino più scomodo ma è vero anche che quando non in utilizzo può essere svitato e montato al contrario in questo modo non sta allungando il nostro obiettivo sta allargando un pochino il barilotto perché c'è un anello in più intorno al nostro obiettivo ma non va ad allungarlo quindi possiamo comunque riporre l'obiettivo nella borsa proprio come facevamo prima la maggior parte delle volte senza nessunissima conseguenza quindi è un accessorio che non abbiamo grosse difficoltà a portare con noi oddio con questo qui in realtà le cose cambiano perché è veramente gigante però ce ne sono molti che calzano proprio sull'obiettivo e non si notano nemmeno più possiamo anche lasciarli lì nel caso stiamo scattando in ombra quindi quando non ce n'è bisogno però va anche detta una cosa montare un paraluce nel 90 per cento dei casi non ha nessun effetto collaterale a differenza dei filtri quindi nel momento in cui noi andiamo a montare uno di questi in teoria se è progettato bene non abbiamo una vignettatura supplementare non abbiamo nessun tipo di effetto collaterale non abbiamo perdita di luce non abbiamo caduta qualitativa con alcune eccezioni che adesso non mi vengono in mente tutte però ve ne cito una in particolare l'8 15 mm di canon che è fornito di un paraluce che io spesso e volentieri utilizzo perché comunque lo lascio quasi sempre attaccato però il paraluce dell'8 15 se noi scattiamo a 8 mm il paraluce è ben visibile all'interno della foto quindi quando andiamo a scattare vediamo gli angolini neri del paraluce tutto intorno perché si tratta di una lente fisheye che quindi ha un angolo di campo mostruoso e va a prendere anche i terminali del paraluce ci saranno sicuramente degli altri casi dove un paraluce può generare effetti indesiderati lì bisogna giocarsela caso per caso o lo togliamo e ce la rischiamo oppure ne andiamo a cercare uno aftermarket di terze parti più piccolo che quindi dia meno fastidio fornendoci comunque un minimo di protezione a questo punto io vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale vi aspetto nei commenti fatemi sapere se questo è un accessorio che utilizzate che prendete in considerazione se non l'avete mai sentito nominare se l'avete scoperto oggi grazie a questo mio video nel qual caso vi chiedo anche di mettere un like a questo video perché probabilmente mi siete debitori io non mi dilungo oltre vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me vi do come sempre appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao